Lucio Pascarelli e grazie per intervento perché secondo me è perfettamente allineato con quello che speravo di avere da questo convegno e come ho detto prima io ho passato una buona fetta della mia vita a comprare prodotti per le varie organizzazioni e ho vissuto io sono entrato in Nazionale Unite 87 dirigente intorno al 2000 ho vissuto tutto un periodo di cali di budget quindi io ogni anno devo fare sempre scenario meno 12 meno 9 meno 6 meno 3 e poi puntualmente decidevano loro per di più anche subito un periodo in cui c'era un problema della fluttuazione dell'euro col dollaro e quindi doppia botta e costantemente giustificare l'acquisto di servizi mi ricordo l'ultime l'ultime fatture Microsoft erano nell'ordine di 4 5 milioni di dollari l'anno senza parlare tutta la parte organizzazione alto commissariato rifugiati cioè tutta un'altra parte che gestiva il database rifugiati che hanno tutta un'altra serie di licenze l'unico periodo in cui non ho avuto tagli di budget è con i rifugiati perché i rifugiati crescono sempre costantemente quindi comunque c'era sempre un budget che metto quindi per me mettendomi nei miei precedenti panni oggi un copilot è una scelta ovvia perfettamente razionale perché io comunque con una piccola spesa aumento una produttività che è nettamente meno costosa risparmio con la quantità di posti che taglio e quindi il problema è quello e quindi secondo me la domanda è cosa facciamo cosa si può fare perché prima o poi non ho dubbi l'intelligenza umana è tutta un'altra cosa rispetto all'intelligenza artificiale la creatività è un'altra cosa io negli anni 80 lavoravo nel campo musicale quello si chiama una startup abbiamo portato il mondo digitale nella musica ho visto esattamente la stessa cosa 9 violinisti su 10 con l'avvento dei sintetizzatori hanno perso i lavori chi è rimasto è Uto Ugi che chiaramente ha arte non è un esecutore quindi la stessa cosa avverrà la creatività per me non è a rischio ma questo cambiamento richiederà un tempo che per me si misura come minimo in un decennio e nel frattempo noi avremo quei cento milioni di gente che non avranno lavoro bisogna riformarli ho letto un libro un paio d'anni fa di di Kai fu lì che mi siamo già citato precedente dove lui fa tutta un analisi dei tipi lavori che verranno persi e c'è una di queste storie in uno dei suoi libri lui chiama 2041 anche se poi dice non è più 2041 nel 2031 in cui ipotizza lavoratori che perdono il lavoro lavoratori nell'edilizia con la robotica che vengono riformati a pilotare dei tele robot che fanno lavori in altri ambienti però alla fine della storia ti rendi conto che i tele robot non erano veri ed era tutto virtuale e quindi questi venivano pagati per dargli un senso di lavoro tanto i soldi comunque per l'ammortizzatore sociale c'erano ma in realtà non producevano nulla di concreto perché lavorava una specie di videogioco è chiaramente una è una una cosa assurda però fa pensare a qual a quale punto conviene dare a uno che non ha il lavoro il senso di di fare qualche cosa prendendolo di fatto in giro sfruttando chiaramente tecniche di ubi perché kai fulli parla di ubi perché è una creazione secondo me californiana e a qual punto invece no il problema è reale bisogna trovare il modo di riformare queste persone in modo che possano rapidamente sentirsi giustificate e soprattutto produrre per continuare finanziare tutto il sistema sociale del tempo di riguardo seguite vediamo iscriviti a uno